Sono due gialli i libri precedenti, questo viene 15 e questo 17. Bellissimo contesto, un festival molto bello. Io questa volta sono arrivato non a cantare ma a parlare di un libro, dell'ultimo che si chiama Sono stato più cattivo, quindi ne ho parlato con una grande giornalista, è stata l'occasione per parlare di musica, per parlare di Italia, per parlare di tante cose, quindi una bellissima esperienza. Su tutto ciò che è poetico, poi io sono uno che scrive di più quando sta nel centro di una grande città che è Milano, però ovviamente stia parlando di posti bellissimi. Uno è condizionato da tanti eventi positivi, negativi, da traumi più o meno grossi.